E ciao a tutti ragazzi, sono il vostro Darius, sì e finalmente siamo su One Piece, che lo stavate aspettando, infatti eccoci qua. Allora, 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 siamo arrivati al momento cruciale, siamo arrivati al momento cruciale del secondo anniversario, ok? Go for a ten in a row, Mada, ok? Siamo pronti per fare il... quanto alto è il volume? Per fare il video summon del secondo anniversario su One Piece globale. E, e, grazie ad alcuni informatori, so che ci sono molte possibilità di prendere Fujitora, grazie a questo informatore che mi ha detto che è molto utile Fujitora per la squadra che ho, quindi let's do this. Ma prima, un attimo, andiamo, vado a prendere le due summon gratis che ci ha regalato One Piece, grazie all'evento della pagina Facebook. Sono pool normali e ne hanno regalate due, quindi... Ah, questo evento qua è solo 5 stelle o 6 stelle, quindi Virgo, bello, mi piace. Virgo è INT, infatti c'è il per 2 degli INT... no, c'è il per 2 dei 6 stelle, ci sono possibilità aumentate per gli INT, e poi sono boostati anche i nuovi personaggi. Quindi, prima summon Virgo, seconda summon, vediamo un po' chi è, cos'è, che cosa potrà mai succedere. Ok, non me ne aspettavo, ok, non mi aspettavo che ci fossero anche 3 stelle, perché ci sono anche 3 stelle allora, no, cavolo. Vabbè, andiamo ad evocare normalmente, 151 gemme, non chiedetemi come, nell'arco di mezzo anno, che non so come, che non ho giocato, ho così tante gemme, il volume è ancora così alto, ma magari non è così alto per voi. Quindi, vabbè, andiamo a fare il 10 in a row, quindi ci sono 10 più 1 gratis. 50 rainbow gems, are you sure? Of course, I am sure. Allora, non ho mai fatto una 10 in a row, quindi sono un po' emozionato. Vediamo come va, dammi 6 rossi, 1, 2 ori, 3, 4, 5, dammi un rosso, 6, 7, 8, 9, niente, 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 tutti i ori. Ok, nami, nami, non so se, questa nami è quasi normale, non lo so, credimi, treble, ok, un altro, non mi ricordo il nome, baby, senior pink, che baby, senior pink. Ah, vabbè, questa è useless, praticamente, credo, zoro bowling, ok, perché c'è zoro bowling, dream chaser, rororo a zoro, ok, e piccolini, mancheri, mancheri, ok, lui ce l'ha già, chopper, che chopper è questo? Tony, Tony, ah, quello nuovo, se non sbaglio, se non sbaglio, quello nuovo. Lui non ce l'ho, dovrebbe essere buono, ok. Io voglio i personaggi già a 5 stelle, non li voglio evolvere. Ah, cavolo, non lo trovo. Ah, vabbè, lei, ovviamente. Utile, mi dicevano. Sono a 219, 239, quindi... Ok, ok. Andiamo, speriamo, speriamo. Ah, 7 secondi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, boom! Non so perché. 1, dammi un rosso, dai, un rosso! Ma no! Ma perché neanche un rosso? Un altro chopper? La tipa che trasforma in strano, giolla. Ok. Ah, quello lì del Re, vero? Dagama, dagama! Ok, terzo chopper. Un altro Zoro Bullying? Oh mio Dio, serio? Ok, va bene. Va bene. Un altro Nami. Lui non so se ce l'avevo, no, non credo. No, infatti non ce l'avevo. Blamenco. Dammi una 6 stelle! Dai, ok, datemi un attimo che sistemo qua la roba. Ok, va bene, va bene, va bene. Non va bene per niente perché a mio parere non ho evocato praticamente quasi niente di buono. Forse la prima Nami, o forse quella Nami era la Nami del Ritup, quindi in teoria dovrei avere Chopper e Nami del Ritup. Mi sarebbe piaciuto magari un 6 stelle. Yes. Quindi vado di ultimo 10 più 1, le ultime 50 gemme e in teoria neanche un 6 stelle mi dispiace abbastanza. Vediamo come va a finire e intanto c'è anche il Ritup di Friend Point. Però non credo di fare un video su quello, magari faccio solo una volta. Dai, non sei stelle! Grazie! Ciao! Grazie a tutti. 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 Ok, ho fatto velocemente pulizia e facciamo un 10 per FP Recruit e poi basta, poi è finito il video. Diciamo che sono un po' amareggiato dalle summon, però... Ok, qua invece negli FP Recruit si possono prendere tarte e in teoria anche alcuni personaggi della storia. Ma credo che siano bustate le tarte, ma credo che siano bustate le tarte, come avete visto. E' un giro in un giro al gruppo dove si parla di Brave, di One Piece, di giochi e robe varie. E c'è anche la pagina Facebook, tranquilli. Se il video vi è piaciuto mettete il video, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e lasciate un commento per scrivermi voi che cosa avete evocato, tanto per farmi rosicare un pochino. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi e buon sugofest a tutti. Finisce... no, ormai è già finito, mi sa quando ho caricato il video. Quindi niente, spero che vi sia dato bene. Alla prossima, ciao!